ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando eccoci qua con un altro episodio dei vostri video reaction alle vostre collezioni di orologi quei pezzi di ferro che contengono tante rotelline e tante molle che poi tutte insieme girano vibrano e poi ci restituiscono l'orario questo è un miracolo perché non si può capire come con tanti pezzettini piccolini viene fuori un orario preciso con uno scarto di pochi secondi al giorno ragionate su questa cosa qua poi ci sono invece gli orologi al quarzo detti anche quarzon che loro con la batteria vanno avanti e ti fregano sono più facili sono più facili ora detto questo basta pochi discorsi questa è una puntata particolare ragazze guardatela fino in fondo perché particolare ve lo dico io guardatela fino in fondo e vi mostro l'orario del giorno che è questo simpatico rolex explorer da 39 mm che idosso con un piacere che mi piace tanto che piace la gente che piace orologio che fai su ho fretta voglio vedere gli ultimi video che sono curioso e iniziamo col primo però iniziamo col primo dai buonasera davide e rappresenti per il canale e grazie a vita che ci dai di sbirciare dentro le lezioni altrui e più che altro nella motivazione che li ha portati ci ha portati a costruire io ti faccio vedere questi cinque sei orologi che c'ho varie tese e senza per questo da questo orienterei due belle orient 100 euro spesi bene direi che certo le caratteristiche piacciono mi piacciono tanto sono la città dei secondi fatta bene con questa puntina rossa che consente di avere un'ottima visibilità la ghiera ad alluminio che invecchia e si sciupa perché questo è un orologio che uso tanto certo e una luminosità che secondo me non ha niente da invidiare a orologi più blasonati chiaramente ubidescenza rogio molto economico c'ha anche delle caratteristiche tipo il cinturino che è veramente duro però non si può chiedere molto di più ma no altro orologio grandissimo lassio che hanno in tanti in questo si sempre master full loom cinturino nero e secondo me è il top e questo orologio qui più che per questa vista vi l'ho preso perché mi piace molto la vista laterale a vista laterale e che l'iconica in equivocabilmente il citizen pro master con la cassa lucida che passa questa questa ghiera satinata con questo disegno molto particolare corona all'otto all'otto molto proporzionato e più che altro questa ghiera alluminio satinata e passa al nero 60 scatti un orologio anche da 100 euro del precedente si passa al 200 di questo vi che però vale la pena di di spendere per divertirci si e portarlo senza nessun tipo di di remora corre corretto e poi come non concludere con la triade dei diver giapponesi l'altro orologio che ho preso è questo seiko tartal mantarei questo orologio qui è anche questo io ho raddoppiato il budget dell'ultimo quindi da 200 circa 200 sono passata circa 400 euro orologio dimensioni importanti l'ho preso più che altro per capire come si comportava la cassa tartal su un polso come il mio da 18 e mezzo e consiglio tutti di non provarselo perché sarete ostretti a prenderlo perché sta benissimo il contenuto luminosità è molto buona però le due caratteristiche che mi hanno spinto a prendere questo orologio a parte la cassa sono la ghiera ceramica e la lente magnificatrice e queste due caratteristiche dopo averlo portato un bel polma circa sei mesi mi portano a dire che la ghiera ceramica non mi ha convinto per niente perché mi dà l'impressione di un qualcosa che non invecchi in maniera contemporanea e il resto dell'orologio sono d'accordo con te la ghiera in ceramica dà l'impressione di qualcosa che rimane immutato nel tempo va bene però se ci pensiamo bene il ragionamento che qualsiasi cosa dovrebbe essere costruita per resistere il più possibile al tempo alle interperie agli urti a quello che ti pare a te se ci fosse stata 30 anni fa 40 anni fa 50 anni fa l'avrebbero utilizzata non l'hanno utilizzata perché non c'era hanno fatto tutti i passaggi dalla bachelite all'alluminio tutti i vari materiali che col tempo si deteriorano se trovi un materiale che fu che è funzionale allo scopo e lo utilizzi poi se uno gli piace per vederselo che si rovina a col tempo è un altro discorso questo però concettualmente parlando è corretto un vetro zaffero che non si graffia una ceramica che non si graffiano in vecchia benvengano cioè preservano l'idea l'integrità dell'oggetto in questo caso l'orologio nel tempo benvengano e quindi mi preferisco abbondantemente la ghiera ad alluminio che si è visto prima nel nel re 2 della orient mentre la lente magnificatrice di una bruttezza assoluta però è di una comodità micidiale in quanto praticamente anche solo buttando l'occhio sull'orologio si riesce a capire la data e il giorno adesso qua per lo stesso discorso della funzionalità applicata ad un oggetto la lente magnificatrice ha senso di esistere io ce l'ho solo sul dayjust mi pare tra tutti gli orologi ed è funziona cioè come dici di appena giro il polso vedi la data capisci che il giorno della data la capisci la legge il numerino ora qua è applicata sia sul giorno che sulla data un bel rettangolone o signore mio è un po grossina ora ultimamente non mi ricordo quale orologio ho visto un orologio che ha il datario ore 6 e con la lente magnificatrice ad ore 6 non mi ricordo che modello è ma si fa fatica è si fa fatica ad accettare la lente magnificatrice l'inghia a ore 6 si fa fatica però ti capisco però è godito è un bell'orologio non buttiamolo giù per due due cavolate che due punti due limiti che a te non piacciono quindi però facendo un breve assunto se io dovessi scegliere un nuovo orologio di uno di questi tre marchi sicuramente prenderei un seico e questo forse perché la caratteristica che più si guarda o perlomeno che personalmente più apprezzo è proprio la cassa e in tema di casse penso che seico sia una delle case che ti consente con prezzi molto abbordabili divertirti con delle forme molto particolari segnali tipo sarbe tipo e sky ex tipo samurai tipo sumo quindi tutte asse che ti possono sessere dire sono d'accordo anche se sinceramente di dei tre diver questo vi è quello che c'ha l'allineamento meno preciso la ghiera meno precisa però continui a prendere passando oltre un altro classico che questo è emilton di girato no c'è strada kaki field cassa satinata e secondo me sul field ci può stare la grande salvia nero pago numeri arabi bianchi quindi non mi piacciono molto le lancette quel colorino invecchiato piace proprio questo è che bianco quindi leggibilità estrema più che altro questo vi c'ha è l'unico orologio che a carica manuale quindi questo consente avere uno spessore contenuto cinturino canvas e questo loggio vetro leggermente bombato movimento età però si porta volentieri e io proprio mi dà buone soddisfazioni soddisfazioni porto sempre bravo soddisfazione questo va passando per caso davanti a una vetrina per caso ho comprato un orologio usato è l'unico usato e ciò e questo orologio che è un class in airman sst 006 pumpkins ho preso proprio perché mi è piaciuta tantissimo la colorazione del quadrante certo e poi l'arattivista mi ha spinto a prenderlo cassa di una forma che questa particolare con questa con queste corone a ore 3 e ore 2 la corona ore 2 regola la ghiera interna girevole funzione gmt questo quadrante blu che vira un blu più scuro in corrispondenza delle ore notturne dimensioni importanti perché un 44 è un 44 lag to lag sarà 8000 a parte dei dischi è veramente importante passo cinturino da 24 però anche se più raramente di tutti gli altri è un orologio che mi metto molto volentieri fondello anche questo vi bello interessante e col boeing lascia un po' per presso il passo del 101 da 24 perché è veramente grande un attimino spiazzato vabbè però poi 44 millimetri a casa ci sta è un orologio da il concetto è che è un orologio strumento non un gmt ben leggibile con la sua ghiera interna arancione che la fai ruotare anche se ho visto che la corona ore 2 liscia sarebbe stato meglio forse zigrinata va bene comunque spero che giri bene che sia facilmente manovrabile è un orologio strumento ci sta va bene così tra l'altro io non ricordo di averlo mai visto così con questa configurazione pumpkin cioè zucca perché c'è la ghiera arancione sono un po' ignorante in questo campo qua quindi fa piacere averlo visto 44 millimetri fondello chiuso si vede che fa parte delle vecchie collezioni non ancora alla moda un po' datato è una bella cassa mi piace l'ultimo orologio l'ho preso perché girovagando in rete o sul sito della sin mi sono fatto mandare il catalogo cartaceo e sblocendo il catalogo cartaceo della sin per lo meno l'impressione avuto io di una casa e faccia tutti gli orologi veramente discreti mi riconoscibili con uno stile molto certo personale particolare per questione di budget l'orologio che ho scelto è un sin 556 ib basso mi è piaciuto un sacco per due caratteristiche primo è la qualità dell'acciaio che è un acciaio che non è troppo lucente e da un'idea di compattezza importante e per la simmetria anche se a posteriore devo dire che l'assenza della fu della data è una cosa che mi pesa e probabilmente non rifarei però la dote principale di questo oggetto di questo orologio è la lucentezza degli indici cioè che hanno la capacità anche in situazioni di poca luce di attrarla tutta e di renderlo leggibile in qualsiasi tipo di situazione dai concludo ti ringrazio ancora per lo spazio che vorrei darmi grazie a te e ti saluto ciao 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 e cosa vuoi che ti dico c'hai sei orologi tutti validi il glissina arm è bellissimo questo zin qua in fondo che è uno dei miei preferiti senza data ma questo te ne frega senza data tanto se non c'è la lente magnificatrice non la leggi anzi a me piacciono gli orologi senza data ce ne vuole un poi un po l'explorer senza data per esempio non è che ne faccio una questione di vita o di morte se la data al 3 al 6 c'è non c'è giorno e data per me gli orologi se un orologio mi piace va benissimo il zin 556 così è veramente spettacolare è uno dei migliori orologi che fa zin proprio per semplicità uno dei migliori magari no poi c'è i tre giapponesi degni di nota anche quelli e c'è il khaki field sabbiato carica manuale 8 io ti do un 8 perché nonostante tu non abbia orologi da 10.000 euro sono tutti orologi che validi che esprimono il massimo potenziale per quel budget che rappresenta un po difficile come concetto però insomma 8 8 va bene si è promosso complimenti per i 6 orologi che ci hai mostrato prossimo video oh ciao davide ciao e ti manda anch'io il video della mia tra virgolette o lezione colezionato toscano sei orologi sono roberto sei studiato 20 anni questo da son 5 perché uno te lo fa vedere ma non lo metto neanche più per quanto faccia care quindi ti può immaginare in merito la soffecca quindi fai bellissima darmela facili andiamo subito se lo faccio vedere che appunto è questo che cazzo è questo questo lige via via ma te è merda si può vedere eroe di gioventù mi rendo conto l'ho preso ma fa cale l'ho fatto vedere tanto per via passiamo un quarzotto acciaio e pvd oro verniciato con tutti i numeri romani intorno al quadrante con quella classica stile e poi con quel barco barchio lì che nessuno ha mai sentito che sicuramente fanno le lattine di coca cola e poi dopo ci fanno gli orologi è simpatici infatti di buono me anche andava via giù mettiamolo qui via via il mio primo acquisto serio che questo 6 con speed timer ma è grabato sempre il design comunque fa il suo sporco lavoro a 100 metri ma cronografo io lo uso per per la palestra anche per recuperare molto utile come te usi l'omega speed master io purtroppo non me lo posso permettere ancora quindi uso questo ma poi lo posso usare anche per uscire tranquillamente veramente bello guarda non me lo posso permettere e lassù vedo un portafoglio gonfio come lo scroto di rocco sifreddi guardalo la mamma mia ce n'hai di soldi ce n'hai primo acquisto serio è veramente bello lo posso mettere con tutto 80 euro poi è questo orologio che in realtà non è un mio acquisto non è un emito il jazz master 40 millimetri ho avuto più quadrante blu non è realtà un mio orologio perché è un orologio credo che gli abbiano regalato per la pensione al mi babbo al mi babbo non se lo mette quindi me l'ha dato a me bracciale top perché è veramente indossabilissimo poi lei mettono una garanzia ma si sono altri due come puoi vedere sono innamorato di questa casa perché comunque ti offre qualità prezzo degli orologi incredibili a mio parere e quindi tanta roba io questo lo metto praticamente semplice l'ho quasi sempre al polso come altri quindi top questo orologio poi secondo acquisto serio che appunto questo emilton khaki field king 40 millimetri anche questo bello cioè non ti posso dire non ti posso dire altro perché bracciale veramente di qualità secondo me ma ti ripeto per me emilton è veramente una gran casa tanta roba io anche questo orologio non li posso dire niente sono mega soddisfatto di questo acquisto certo poi penultimo orologio che è questo 6 con 5 gmt sono sempre stato indeciso se prenderlo con la colorazione tra virgolette batman però sono abbastanza soddisfatto anche di questo orologio secondo me l'unico leggermente difetto di questo orologio forse è il bracciale che è giubilì è vero però c'ha questa clasp qui che boh non è che mi convinca al massimo sinceramente da un secco di più di 400 euro magari mi aspettavo un bracciale con più qualità però se non mi posso lamentare granché perché è proprio bello si fa notare al posto al polso questo orologio quindi non mi posso lamentare e infine il mio ultimo acquisto che è anche l'acquisto più prezioso ma secondo me anche forse questo orologio che preferisco della collezione e te mi dirai vabbè è un po troppo specifico però io lo adoro questo orologio questo Hamilton frogman 42 mm io non so che dire è veramente un cazzo di watch è veramente bello ma la costruzione del bracciale con questa clasp con questo bracciale a maglie lucide maglie piene questa ghiera girevole che senti proprio la qualità in questo orologio questa 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 chiusura meravigliosa veramente io questo orologio lo adoro io non so che cosa ne pensi magari tu mi potrai dire che è un po troppo specifico vero perché è un 300 metri fatto appunto per le immersioni subacquee ma io lo indosso tranquillamente anche per uscire così certo poi vabbè io un orologio ce l'ho sempre al polso quindi per me è un piacere portarli però veramente io questo orologio non so che cosa ne pensi ma lo adoro mi piace mi piace mi piace niente collezione finita lasciamo stare quella merda lì che per me può stare lì mi merito il ciofei ti volevo fare un'ultima domanda io sto cercando un orologio neanche troppo dress watch però comunque che potesse anche fungere da quelle per per quella funzione ma anche un orologio che posso mettere tranquillamente anche sotto una t-shirt però appunto che sia abbastanza versatile che non vada sopra i mille euro se possibile se tu mi puoi dare qualche consiglio e niente ti ringrazio stammi bene te davide piero giacomo tutti anti siete statemi bene ragazzi siete numeri uno love ma che ne so io un mille mille euro un dress watch non lo so signori miei non lo so faccio fatica io così puff con mille euro cosa prendi con mille euro mi viene a mettere villervetta dynowid come il mio che è un militare un militare che però se ci mette un cinturino un po elegantino magari può fare anche da dress watch moderno ma che costa 700 800 che ne so io poi mi viene in mente young guns young guns con max bill forse ci stiamo sotto i mille sì credo proprio di sì queste robe qua amici aiutatemi voi a casa perché io sinceramente fatico fatico perché dress watch già di per sé è una tipologia che poche case si mettono a fare poi duro e puro non lo fa nessuno non fanno un pochino modernizzato ma potresti anche andare a prendere un vintage se non ci sarebbero i longine quelli della della collezione presence che sono veramente sottili eleganti no c'è un bracciale se ci metti il bracciale lo può utilizzare anche in altri contesti con un cinturino in pelle diventano perfetti anche per una cerimonietta diciamo così passiva sopra i mille euro ormai logissima sopra i mille euro poi per il resto complimenti per gli orologi a parte quella mezza ciuffeca lì poi 7 un bel 7 te lo do cosa c'avevi non mi ricordo più mi è confuso con la domanda e non mi ricordo più ai emilton c'è un sacco di emilton dei quali decanti l'odio fa piacere bracciale bello cassa bello ricordiamoci che le case svizzere che sono in quella in quella fascia di prezzo di mille mille sotto i mille sotto i 2000 casse e bracciali la maggior parte le fanno fare in cina in asia cioè questo a riprova che se c'è da lavorare bene si lavora bene in qualsiasi parte del mondo no basta pagare il giusto e si ottengono dei buoni risultati ecco questi bracciali qua i bracciali di emilton sono un esempio anche le casse di come siano fatte bene i prodotti fatti non in svizzera l'importante che una stragrande maggioranza delle parti e l'assemblaggio venga fatto in svizzera quel momento lì tu li identifichi come swiss mate emilton è una di quelle case che sa mischiare bene le due cose come tisso come altre cioè ce ne sono molte altre tutte quelle che sono sotto i mille praticamente giù di lì beh il 7 te l'ho dato belli orologi anche il 6q5 l'igmt e sul frogman si mi piace è abbastanza un orologio iconico con la sua identità con quel copricorona così non lo comprerei perché insomma se dovessi prendere qualcosa di emilton come prenderei altro però lo ritengo un buon orologio bravo bravo e svuota quel portafoglio l'altro che mille c'è ne di più nel portafoglietto lassù di fianco ciao davide io sono alessandro un caro saluto dalla campagna zurichese innanzitutto grazie per l'ospitalità sul tuo canale iniziativa molto che trovo molto giocosa e divertente iniziamo con una visione d'insieme della mia raccolta di orologi parlo di raccolta più che di collezione perché si tratta per la maggior parte di orologi al quarzo che ho ricevuto in regalo nei diversi anni da parenti fin da quando ero ragazzino quindi per me hanno un valore affettivo certo di rivalutarli di utilizzarli ogni tanto però capisco che su questo canale sarebbero di scarso interesse innanzitutto la visione d'insieme l'ho fatta per razionalizzare il mio ultimo acquisto si può vedere due bracciali in metallo due cinturini nato due cinturini in pelle marrone due in pelle nera due in pelle di colore più sgargiante e un orologio da tasca ma te sei fuori eh invece riguardo alle funzioni c'è un diver due crono due orologi che utilizzo principalmente come dress watch in quelle rare occasioni e poi qui l'orologio che utilizzo tutti i giorni poi adesso possiamo iniziare a vedere i singoli elementi più interessanti minchia con calma 1987 orologio che ha comprato mio nonno della omega al quarzo della linea art collection che era una collaborazione fra dieci artisti moderni e la omega per cui sul fondello veniva riportato il loro disegno la cassa in ceramica appositamente sviluppata e il vetro in zaffero lo rendono sicuramente un orologio che all'epoca era di grande valore insieme allo spessore di cinque millimetri e mezzo e mezzo davvero esiguo certo io da bambino ero molto perplesso dall'assenza di numeri sul quadrante mi sembrava una grande imprecisione di difficoltà di lettura però se parliamo di quadrante pulito questo ne è sicuramente un esempio certo poi deve essere anche bello però 1992 un orologio da tasca che mi ha regalato mia mamma per il compleanno reca ancora la scritta Unione Sovietica ma nel 92 era già la Russia evidentemente hanno utilizzato dei fondi di magazzino la ditta Molnia è esistita dal 1947 al 2007 questo movimento il 3602 è stato impostato inizialmente negli anni 30 da Cortebert e ha fatto da base per il Rolex 618 addirittura queste informazioni che ho reperito online possono essere interessanti per qualcuno ricordo che rimasi affascinato era il primo orologio meccanico che avevo rimasi affascinato a fissare il movimento meccanico delle lancette per un'ora quando ero ragazzino poi l'ho indossato per qualche mese alle superiori così tanto per essere originale bravo poi pericoloso questo qua 2021 orologio che ho ricevuto in regalo dalla moglie per l'anniversario di matrimonio questo tisso super sport al quarzo con la funzione crono fino ai decimi di secondo è la data cinturino in pelle con cucitura a mano gli elementi nel quadrante sono a diverse profondità in maniera piuttosto esasperata che ne dà un quadrante con una grande tridimensionalità certo vetro in zaffero lo indosso raramente perché è grosso il diametro da 45 mm per me è un po' grande e vabbè ma è puoi a febbraio di quest'anno mi sono cercato così un orologino automatico di basso costo bello e ho trovato questa Vostok non conoscevo l'azienda mi sono informato ovviamente azienda di grande tradizione certo così come le diverse scelte progettuali originali per il vetro la corona il fondello lo rendono un orologio l'anfibia che ha personalità da vendere interessante io poi sono uno che si appassiona di sommergibili e sottomarini quindi quando ho visto questo con il sottomarino sul quadrante era fatta come potete vedere le lancette non è che siano state montate con grande precisione si potrebbe fare un po' meglio il cinturino metallico sappiamo che non è di grande qualità comunque a me non dispiaceva ma volevo sostituirlo con un bel nato siccome questo era l'orologio da portare in vacanza ho scelto il giallo perché è il mio colore nei giochi di società scelgo sempre il giallo e poi un cinturino nato su un orologio russo di questi tempi crea un bel contrasto così come la combinazione giallo blu su un orologio russo poi l'orologio l'ho portato due settimane in vacanza al mare ovviamente ha tenuto bene essendo impermeabile fino a 200 metri e poi c'è stato anche il caso di entrare a visitare un sommergibile vero e avevo questo al polso quindi è stata una soddisfazione in più per me e va bene, dovevi in Svizzera a visitare il sommergibile arriviamo adesso all'ultimo orologio che mi sono comprato a giugno certino volevo un bello orologio con data e anche con giorno della settimana che fosse col quadrante bianco, lancette blu e cinturino blu questo mi era venuto come idea da un orologio che avevi fatto vedere tu in un video poi io volevo che i giorni non fossero nella solita conformazione tipo Seiko 5, volevo qualcosa di un po' più originale e poi questa scritta così ricurva del giorno mi ricorda molto le scritte sui salvagenti delle navi quindi da un tocco marinaresco a questo orologio dai colori blu mare il cinturino è blu scuro è un blu parecchio scuro ma si nota il blu in condizioni normali di luce ed è meglio di un blu brillante che dopo un po' stuferebbe anche le lancette a seconda delle condizioni di luce danno dei riflessi di blu diversi gli indici anche riflettono molto bene la luce la lancetta dei secondi per esempio si specchia su ogni indice argentato se avete notato è stata una bella esperienza di acquisto in una gioielleria a Zurigo il costo è stato di 755 franchi quindi euro diciamo con lo sconto del 10% era proprio l'orologio che volevo era il budget che volevo il movimento non è esteticamente niente di che ma è carino si vede la regolazione fine che hanno utilizzato perché io l'ho rimandato indietro in garanzia per un piccolo problema alla carica manuale già che c'erano me l'hanno gentilmente anche regolato quindi adesso scarta due secondi al giorno la voletta 28-24 sono molto molto contento di questa marca e di questo orologio vi lascio con un augurio che i vostri orologi aumentino sempre più di valore nel tempo e questo significa che al vostro polso segnino ore felici ciao a tutti qua siamo nella filosofia le ore felici al polso perché aumentano di valore mamma mia questo certina qua alla fine che io non so quanto tempo fa tu l'hai preso ma se l'hai preso recentemente significa che è un fondo di magazzino se ti hanno fatto sconto del 10% insomma ti hanno anche un pochino gabbato oserei dire perché sti qua, sti orologi qua c'è letta 28-24 dentro in quelli di oggi da qualche anno a questa parte c'è il calibro quello a 80 ore di riserva di carica con spirale libera non è questo il caso quindi il fatto anche che non funzionava la carica manuale perché magari era lì da 10 anni non lo so non lo faccio per dire 10% di sconto ma quando qua in Italia ci sono certi negozi che conosciamo che riescono a fare anche qualcosina di più secondo me dico sugli orologi del gruppo Swatch non certina perché in Italia certina non c'è insomma magari anche solo su Amazon o da qualche altra parte online su Chrono24 si riusciva a portare via comunque qualcosa di meno comunque contento te siamo tutti contenti alla collezione completa ti do un bel 6,5 6,5 perché sì insomma non è che mi ha fatto impazzire poi mi sembra che hai lasciato indietro anche un pezzo quello con il vetro tutto segmentato l'ho visto la cosa era un Cronotech era un Cronotech veramente voluti 6,5 di più non posso darti purtroppo la scimmietta è in sciopero e non ha guardato e ha deciso che non fanno per lei perché non ha dato il parere quindi 6,5 e accontentati altro da dire su questi simpatici orologi no tanti quarzoni beh diciamo così poi sei un filosofo sei anche un po' strano però va bene buongiorno Davide buongiorno a tutti sono ancora Daniele Milano ti mostro proprio un piccolo video dove faccio questo video per mostrarti due nuove due novità va bene e per consigliare a tutti questo libro che probabilmente è già stato consigliato ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io relativo all'orologeria la loro storia e i loro modelli più importanti quindi che hanno poi fatto anche la storia dell'orologeria questo libro qua ce l'ho anch'io c'ho la versione quella vecchia con la copertina di un altro colore mi sembra marrone forse invece che blu questo qua è la versione aggiornata quella blu si compratelo è un bel libro è un bel libro sono belle fotografie belle storie niente di così approfondito sono un po' una breve stroia una paginata di storia per ogni casa con le immagini degli orologi più importanti nel mio mancano anche certi marchi mancano ad esempio mi sembra che Seicon nel mio non c'è forse qua ce l'hanno messo bello si può avere anche perché non costa tanto ci sono davvero tanti marchi lo consiglio ed è anche fatto molto bene secondo me tornando agli orologi ti mostro i nuovi arrivi io sono il ragazzo che mi ha portato sul canale questo orologio di cui appunto eri un po' non eri sicuro che fosse originale però vabbè adesso fortunatamente lo sai anche tu è un orologio originale un orologio molto particolare abbastanza raro si può dire costruito solo per un paio d'anni questo King Seiko Vintage certificato cronometro per ricordarti allora abbiamo come novità questo Doxa bravo sub 200 un paio di cose volevo dire un orologio veramente bello un orologio che comodo anche non è da poco e volevo ringraziare anche qui vabbè te per il consiglio e poi il Pasquale Domenici il buon Giacomo perché trattamento veramente da amici del canale e soprattutto si può dire spedizione in tempi brevi cioè vabbè professionista c'è qualcosa da fare e la cosa più che volevo dire su questo orologio che rispetto alla recensione che avevi fatto tu su quello non mi ricordo nero forse arancione vabbè non mi ricordo la ghiera la ghiera diventa davvero luminosa quindi su questo non fa quel difetto lì quindi anche tutti gli amici del canale così lo sanno nel caso che non vuole essere problemi a livello di luminescenza questa la ghiera funziona bene e qui secondo me il plus è il bracciale è un bracciale che è veramente di una qualità altissima e per parlare di bracciale per le novità ho acquistato questo che secondo me è un modello bellissimo è King Seiko ormai penultima referenza so che stanno uscendo quelli nuovi top top molto bello consiglio molto ho fatto un po' un paio di ricerche ovviamente è venuto fuori del calibro tanti si lamentano questo fortunatamente marcia bene certo non è il miglior calibro però secondo me questo orologio è più un un fattore estetico che che te lo deve far acquistare ma in realtà io c'è qualsiasi orologio che acquisto l'acquisto per il fattore estetico ok cioè su questo e penso che tutti mi piace quell'orologio lì poi fammi capire un po' cosa c'è dietro ah no c'è una cioffecca di calibro beh allora non lo voglio c'è una cioffecca di azienda dietro no allora non lo voglio però un King Seiko lo compro cioè perché è bello così come altri orologi le compro l'unico l'unico punto dove posso invece non non badare tanto l'estetica ma al calibro è nella collezione vintage dei Longines che ho se mi serve se ho voglio se voglio mettere in collezione un particolare calibro e trovo un orologio che è anche brutto a vedersi e l'ho fatto lo prendo uguale lo prendo uguale come ho preso è un cioccolatone con il calibro elettrico dentro che ha il bilanciere ma ha la batteria mi interessava avere quel calibro lì in collezione per completare i passaggi che ci sono stati dal meccanico all'elettronico al quarzo è brutto l'orologio un cioccolatone placato oro che Dio ci scampi però l'ho preso e in quel caso lì però uno vuole un King Seiko mi sto a vedere se dentro c'è il 4R il 6R l'8-9 no cosa me ne frega King Seiko è un bello orologio lo prendo e me lo indosso con piacere veramente bello anche qui non si imita nessuno come per il precedente Doxa un orologio simile a questo non l'avevo mai visto no bello e comunque dai anche senza data è un bello orologio e anche qui il bracciale veramente fa il suo si può dire qui e niente dai volevo solo farti vedere questi due orologi vabbè per il voto alla collezione magari dai anche poi gli altri sono oltre King Seiko abbiamo il nostro Hamilton Intramatic Crono che lo conosciamo benissimo ciao anche io mi piace molto adesso non so se acquistare il bracciale a Kikidiri scusa maglia milanese che mi piace molto vediamo un po' io ce l'ho magari lo acquisto per renderlo un po' più fashion e poi lui che aveva preso anche il top quando ti avevo mostrato il video il nostro scherzavo scherzavo quindi questa è la mia collezione così magari mi becco anche il voto vediamo se sono rimandato no grazie a tutti e buon proseguimento grazie mille ancora Davide per il canale va bene veramente ci ci fai passare il tempo con piacere love love ma non c'è scritto love va bene vuole il voto è un bel set è un bel set c'è l'intramatic l'SKX poi si è preso con due belli orologi il Doxa e il King Seiko bello King Seiko è proprio bello ora hai preso quello lì a me l'ho sempre detto che mi piace di più quello con il bracciale con i finali dritti che è spigoloso ormai mi ha fatto la scintillaccia la scintillaccia al culo della scimmietta gli fa le scintille del culo alla scimmietta e poi sono usciti i King Seiko con la cassa cuscino anche quelli lì sono belli preferisco continuo a preferire questi dai va bene un set te l'ho dato sei contento non sei rimandato adesso ragazzi c'è l'ultima per l'ultima volta vi giuro che per l'ultima volta adesso le cartoline dalle vacanze perché perché c'è l'amico Tristano chi è Tristano Tristano è colui che conduce guida il canale più famoso del mondo uno dei canali più famosi del mondo dedicati all'orogeria americano di New York e c'è sto canale qua Urban Gentry e mi ha mandato un video cartolina figuratevi un po' come siamo messi io non ho guardato il video ho solo visto l'anteprima che c'è lui a torso nudo e come possiamo non pubblicare Tristano a torso nudo sono l'unico canale che mette a nudo Tristano poi voglio dire basta con le cartoline dal mare riprendiamo poi dicembre dal primo dicembre riprendiamo mandatemi le cartoline delle vacanze di Natale sotto all'albero con i regali oppure sulla neve facciamo dal primo dicembre adesso facciamo una pausetta iniziamo a vedere i video eccolo ciao Davide ciao siamo qui in Story Park questo è il Tribor Bridge che va al Bronx qui è Queens dove ho vissuto per 12 anni prima di Philadelphia adesso sono ritornato sono molto contento perché c'è il più migliore cibo di tutta la città è qui in Queens e poi questa grandissima piscina vedi questo qua è il più grande piscina di tutto New York è un bellissimo perché è gratis paga il governo bravo è gratis per quelli che vivono qui se non c'è un sacco di soldi puoi portare tutta la famiglia molto sicuro tranquillo c'è la polizia qui tutto si stimata adesso è un po' vuoto perché i bambini hanno tutti ritornato a scuola ah ok allora volevo chiederti qualcosa anzi questo è per quelli che seguono tuo canale se tu vivi a New York e parli italiano mandami un'email scusate Davide che questo non è pubblicità non voglio guadagnare niente non voglio soldi questo è solo per praticare italiano e parlare di loro forse facciamo un piccolo evento perché per me è importantissimo la lingua è il chiave della nostra cultura di nostre tradizioni anche per parlare con famiglia il problema è che tutti gli italiani che vivono qui con me hanno questi accenti così forti che non riesco a capire un cazzo allora forse è più facile se parliamo di orologi non lo so vediamo allora grazie Davide spero che fai questo cortesia per me sì ti saluto di Queens è l'orologio vedi com'è bello adesso vi devo ritornare al lavoro che palle che palle ok un saluto un bacione a tutti ciao ciao questo c'è cazzo quasi finito tutto 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 il submarino vedi pronto per il bagno questo è un Zulu fai il bagno facci vedere molto bello anzi è il primo Zulu che ho comprato anni e anni fa ok ti saluto grazie Davide ciao love 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 allora l'amico Tristano qua mi sembra di aver capito io pensavo fosse una cartolina di quelle del mare invece era in piscina torso nudo vabbè non è un bel vedere ma noi ci accontentiamo praticamente siccome lui vuole da quello che ho capito praticare la lingua italiana vuole parlare italiano ognuno di voi che arriva a New York che gli mandi un'email in modo da incontrarlo per poi poter parlare di orologi con lui in italiano ah sempre da aver capito così vero Tristano sì scrivi sotto se è così se è così ragazzi chi va a New York mandi una bella email anzi anche se non andate a New York mandate a Los Angeles fate un saltino a New York apposta per parlare con lui dai proseguiamo con le cartoline le ultime ciao Davide dal lago di Como destinazione Montegrona ecco la cima con la croce di vetta che ci aspetta giornata veramente bellissima in compagnia del mio Kamasu che è sempre con me durante le escursioni ci siamo lì e dalla cima un po' di panorama per gli amici del canale con il lago di Como e la sua biforcazione là in fondo e poi si vede anche il lago di Lugano un saluto a tutti ciao ciao Davide ciao sono Michele mi trovo a Pula Sardegna un saluto da queste bellissime acque e dal mio Promaster con la sua estensione della muta muta che non porto ovviamente perché con queste bellissime acque non serve ciao a tutti va bene ciao dove siamo ciao Davide sono Giacomo un saluto da Madeira in Portogallo sull'oceano con il mio oceanographer oceanographer bullova ciao Davide ciao innanzitutto complimenti per il canale grazie sono Lorenzo Lacuneo e sono qua in vacanza in Puglia nel Salento in questo fantastico posto guarda qua che roba in compagnia del mio fantastico acquarezza bello questo è veramente bello e niente dai complimenti ancora per il canale grazie ti faccio vedere ancora il posticino giusto per farmi odiare bello bello niente love bello strologio ciao Davide ciao a tutto il canale vi mando questo video cartolina sperando di essere ancora in tempo dalle Mauritius Mauritius esattamente Balaclava Beach mare bellissimo e da questo mare esce questo Seiko Turtle come quello di prima Batman del 2020 con il suo cinturino originale simpatico colori molto belli con questo quadrante blu e nero e un saluto a tutti ciao Davide chissà se ti fa piacere ricevere un'altra cartolina forse l'ultima per salutare quest'estate e da qui da Fadignana con un saluto al mio polso Rolex GMT Master 2 il mio compagno filato e resistente per tutti i miei viaggi un abbracione a te a tutti i follower mettitelo in acqua ciao Davide ciao un video da Giun le bain in Francia e ti presento il Tudor nell'acqua nel tuo splendore ciao buone vacanze ciao Davide sono Gabriele dalla Sardegna un caro saluto dal poeto questa è la sella del diavolo giornata sferzata da un maestrale che rende tutto così meravigliosamente piatto e bello l'orologio del giorno Panerai Panerai Luminor Marina che bello carica manuale 30 atmosfere di impermeabilità e questo è quanto bravo un saluto da Cagliari bello panerai così piace bello bello paneraino così mi piace proprio bisogna che ci faccia un pensierino prima o poi sennò qua come facciamo andare avanti senza uno un orologio di Panerai mi ci vuole non so quale non so quale questo carabello devo studiare un po' di più Panerai ragazzi i video sono finiti anche le cartoline qua delle vacanze giuro che questo era l'ultimo e poi riprendiamo a dicembre dai vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e il presentatore e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e vi ringrazio Grazie a tutti.